E' un importante riconoscimento quello che arriva per la città di Berlino, capitale della Germania. Infatti pensate che l'UNESCO ha riconosciuto proprio come patrimonio culturale i materiali dell'umanità la famosa Tecno di Berlino. Vi ricordo che la decisione è arrivata nella serata di mercoledì 13 marzo 2024, l'altro ieri, è stata resa pubblica da Nazioni Unite che si occupa di raccogliere e riconoscere tutte quelle che sono le iniziative che vanno a difendere e quindi a vincolare le culture in giro per il nostro pianeta, la Terra. Iter partì nell'anno 2021, finalmente è arrivato il riconoscimento dell'anno 2024, precisamente nel mese di marzo, un riconoscimento importante per una città straordinariamente bella e affascinante come lo è la città di Berlino, la capitale della Germania. Un mix tra antico e moderno che convive perfettamente, in maniera piuttosto allineata, tra il nuovo e il vecchio. Bene, ovviamente dunque alla città di Berlino, la Germania, la Tecno di Berlino, quindi è il patrimonio culturale dell'UNESCO. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti, è Alejandro Narrato italiano.